L'economia retina sembra piuttosto stabile. Nel 2016 ci sono 12 imprese in più in provincia di Arezzo. Questo è uno dei dati presentati durante il rapporto sull'economia retina 2017 nel corso della quindicesima giornata dell'economia. L'occupazione sembra in crescita anche se grazie solo ai contratti di lavoro non stabili. Dopo dieci anni di continua costante criticità che è quello del lavoro, del tasso di disoccupazione particolarmente alto, ricordo che dal 2004 ad oggi è letteralmente raddoppiato, nel 2016 abbiamo avuto un decremento di questo tasso che siamo passati dal 10,3% al 9,2%. Questo risultato accompagnato anche da un decremento importante dell'utilizzo della cassa integrazione nel suo complesso, quindi ordinaria, straordinaria in deroga, va colto assolutamente in maniera positiva. Rimangono purtuttavia delle ombre e delle criticità importanti che non ci consentono di dire che siamo usciti dalla crisi, che siamo usciti dal tunnel, ma che comunque in ogni caso ci stiamo incamminando verso una prospettiva più positiva. I dati del rapporto certificano una situazione di capillare diffusione dell'impresa in provincia di Arezzo. Più di un'impresa, ogni 1000 abitanti nella nostra provincia, le imprese sono oltre 45.000. Il saldo fra le imprese nate e quelle che cessano è positivo e in questo numero positivo matura grazie, questo numero positivo matura grazie soprattutto alle imprese di giovani, alle imprese femminili e alle imprese straniere. Le imprese di giovani under 30 sono nella nostra provincia il 25% di tutte le imprese che nascono ogni anno, solo l'anno scorso ne sono nate 620 grazie a giovani under 30 che probabilmente non trovavano spazio nel mondo del lavoro e hanno deciso di correre in proprio la sfida dell'autoimprenditorialità. Grazie a tutti.